Che cosa è che differenza c'è? Mentre il paziente d'Italia rischia la paralisi negli alberghi come negli Stati, l'esecutivo prepara un nuovo decreto anti-coronavirus. Il ministro Gualtieri non mette un pacchetto di misure da 3,6 miliardi, ma per vedere alberghi non è abbastanza. No, i provvedimenti non sono sufficienti. Anzi, il nostro indotto è fastissimo, va dalle lavanderie, alle patricidie, a chi vende detertivi, ai consulenti, tutti. Ci fermiamo tutti.